La pallavolo giovanile canavesana ci regala ancora un bellissimo risultato. Nel nuovo appuntamento con Sportivi E parliamo dell'ACV Locana Volley che ha conquistato il pass per i regionali. Il fatto di non solo andare a puntare sull'aspetto tecnico e tattico ma dialogare con loro perché hanno 13 anni, quindi non devo essere solo un allenatore ma un educatore. Lo sport deve aiutare a formare gli adulti di domani, la famiglia, lo sport, la scuola devono aiutarci e noi cerchiamo di fare il possibile per portare avanti questa missione. L'appuntamento è martedì 16 aprile alle ore 21 su ON TV Web. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.